Grazie a tutti Siamo arrivati finalmente a Milano, ho visto che sei finalmente più rilassato, più tranquillo, più forte, sei un guerriero vero, cosa ci dici? Sì, per il guerriero vero sta bene, però sono contentissimo della gente, di Milano, degli organizzatori, mi va anche abbastanza bene e il piede sta recuperando, vedo che non ci sono proprio grandi problemi, speriamo che nell'arco di due o tre giorni riesco a recuperare bene la grande. Secondo me ce la fa molto prima perché questo è un vero guerriero. Abbiamo anche qui il presidente dell'Alto, se ci si avvicina un attimo con noi. Vuoi dire due paroline per il nostro Aldo? Aldo è veramente un guerriero e sto vedendo che recupera minuto dopo minuto e domani ripartirà veramente alla grande, abbiamo raggiunto questo obiettivo di Milano che era fondamentale per poter proseguire tutto quello che è il nostro percorso. Forza Aldo che ce la facciamo veramente con il nostro obiettivo. L'obiettivo è arrivare in piazza del Vaticano il 9 settembre con un milione di persone che ci seguono. Questo è il nostro obiettivo che dovremmo mantenere. Bene, speriamo che tutti ci ascoltano e che prendano il nostro messaggio di quello che sto portando io e oggi veramente porto anche un lutto, ricambio il pensiero per quello che è successo sia della scuola che anche del terremoto stamattina. E tra l'altro mi sono anche svegliato perché erano alle 4 di mattina e 16 minuti. Tra l'altro mi dispiace queste cose che succedono però è una cosa naturale e auguro alle famiglie che possono riposare in pace. Grazie. Voglio solo ricordarvi di andare sempre su www.infoalt.it dove troverete tutti gli aggiornamenti su Aldo Maranzina e la New Pro Video dove troverete il suo canale dedicato via web. Vi mando un grande abbraccio e seguiteci. Ciao. Ciao, grazie.